amici di salute ben ritrovati come spesso noi vi diciamo per restare belli tonici fino alla terza alla quarta perché no alla quinta età bisogna mantenere in allenamento la propria mente tenere vivi i propri interessi oggi di questo vi parleremo delle iniziative di dell'università della delle tre età dunque non più soltanto la terza età ma anche i giovani come sentiremo dalle parole dei miei ospiti e poi una serie di corsi di attività dedicate anche agli over 60 over 70 over 80 over 90 ed eccomi nell'aula magna della sede del vomero di napoli di unitré in compagnia della dottoressa figliola che è la presidente sì della sezione partenopea di unitré ma è anche membro del consiglio direttivo nazionale perché diamo qualche numero dottoressa unitré a livello italiano ha molte sedi e tantissimi iscritti sì infatti la unitré è un'associazione nazionale che conta oltre 400 sedi su tutto il territorio italiano e circa 100.000 associati quindi parliamo di numeri molto interessanti che cosa esattamente fa unitré io nella breve presentazione ho detto che non esistono più non esiste più la terza età ma forse anche la quarta la quinta insomma adesso salute permettendo gli anziani vanno avanti con tanti interessi anche insomma a età ragguardevoli è vero sì in realtà l'unitré che è sorta negli anni 70 a torino grazie a una pioniera potremmo dire in questo campo che ha costituito la unitré università per la terza età quindi è sorta come unità per l'università per la terza età ma poi nel corso degli anni dei decenni si è pensato anche di ampliare questa offerta anche alle fasce un po più giovani quindi ecco che è divenuta poi negli anni 2000 università delle tre età noi abbiamo un anno accademico che si articola in due quadrimestri con un'offerta formativa di corsi laboratori iniziative varie attività ricreativo culturali per lo più e con una quota associativa annua si diventa soci dell'unitré e quindi si può partecipare a tutte le nostre attività iniziative ripeto che poi man mano nell'arco dell'anno vengono anche organizzati incontri seminari visite guidate gite culturali un po di tutto quindi senta per la sua esperienza qual è la diciamo la fascia più gettonata le attività manuali le visite guidate la cultura soprattutto la cultura anche se tra le finalità dell'unitré parliamo proprio di quelle che sono indicate nello statuto non solo quelle che io ho voluto sottolineare in questa sede di napoli c'è la socializzazione quindi la cultura si ha un suo importante e chiaramente si cerca le persone cercano soprattutto corsi di lingue inglese in primis laboratorio di informatica per poter essere così al passo coi tempi aggiornati un po come i loro nipoti però quello che è anche molto importante è il piacere di stare insieme perché molte persone sono sole soprattutto quelle anziane che hanno perso il proprio compagno o compagna hanno i figli lontani quindi per loro è importante avere un impegno e soprattutto trovare persone amiche perché poi l'ambiente diventa familiare pur essendo in tanti però il taglio che io poi ho voluto dare a questa sede in particolare è proprio questo Antonio Caffiero vicepresidente di UNITRE è qui con me per raccontarci delle new entry dagli anni 2000 l'università della terza età si è trasformata in università delle tre età come ci diceva la presidente e quindi c'è anche una sezione per i giovani sì c'è una sezione per i giovani nel senso che sei anni fa abbiamo pensato che come associazione di promozione sociale avessimo anche una sorta di dovere che abbiamo chiamato di restituzione nel senso che essendoci nella nostra università tante competenze di altissimo livello abbiamo pensato che fosse una cosa utile cercare di restituire queste esperienze ai nostri giovani per dargli la possibilità di avere maggiori chance per entrare nel mondo del lavoro per cui noi facciamo una serie di corsi che definirei in una sola parola masters che sono gratuiti e hanno l'obiettivo di fornire ai giovani che frequentano questi master una competenza aggiuntiva pratica un'abilità aggiuntiva da inserire nel curriculum vitae e quindi potenziare la loro capacità di penetrazione non nel mondo del lavoro quindi facciamo questi corsi rilasciamo attestati che quindi sono documentati e documentabili e sono gratuiti che mi sembra molto molto importante questa è la cosa principale e ancora una volta si perpetra questo sentimento che la presidente ci tiene tanto a portare avanti cioè dell'integrazione della terza e quarta età nel contesto sociale perché certamente una persona di una certa età che ha una competenza enorme e può trasferirla ai giovani assolutamente si ha accolto proprio il punto in realtà poi se lei partecipasse a uno di questi seminari vedrebbe poi plasticamente come questo punto di fusione avviene perché c'è un rapporto così diretto tra diciamo il docente anziano e il discente giovane che poi si azzerano i numeri dell'età e si diventa addirittura goliardici Allora il 22 settembre un compleanno importante come lo festeggerete? Dunque festeggiamo il decennale di questa sede di Napoli che ho costituito nel 2011 quindi faremo un evento presso il teatro salvo d'acquisto dei Salesiani in via Morgan in cui racconteremo un po' i nostri primi dieci anni di vita di questa associazione ovviamente attraverso un video, delle immagini e il tutto sarà anche arricchito con interventi da parte di artisti momenti musicali e poi ovviamente saranno illustrati tutti i corsi relativi al prossimo anno accademico quindi tutto quello che insomma sarà il programma del prossimo anno accademico Allora buon compleanno Unitre voi magari potete prendere delle informazioni perché Unitre ha un sito naturalmente al quale poter rivolgersi per avere tutte le informazioni chissà che non ce li vedremo perché insomma superato l'inizio della terza età mantenere la mente bella vivace è fondamentale fa bene alla nostra salute alla prossima Grazie a tutti